Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Adesso fra poco mi presento, presento anche bene il progetto. Ovviamente vi dico, voi avete una chat con cui potete interagire, potete fare domande, potete già scrivere, anzi vi invito a fare delle prove se volete, ditemi da dove ascoltate, da dove state guardando, che classe siete e da quale città, che sono molto curioso. Comunque, allora, iniziamo. Questo webinar fa parte appunto del progetto AIRC nelle scuole, che è un progetto per ogni ordine e grado e appunto riguarda proprio un progetto di divulgazione e non solo, e anche di informazione scientifica, che appunto viene fatta attraverso dei webinar in tutte le scuole, che ovviamente vogliono provare a partecipare a questo progetto. Questo progetto fa parte di un insieme di progetti più ampi di AIRC, che appunto sono molto vari, potete trovare tutte le informazioni nel sito scuola.airc.it, tra i vari progetti si può per esempio citare il progetto Cancro io ti boccio, ma non solo, pensate che c'è anche un canale YouTube per esempio che si chiama AIRC Education, in cui per esempio poi verrà anche ricaricato questo webinar che potrà essere guardato fra qualche giorno, oltretutto si potranno lasciare dei commenti anche lì, e non solo, ci sono anche altri progetti come gli incontri con i ricercatori e così via, sono tutti progetti gratuiti che hanno chiaramente l'obiettivo di parlare di tematiche scientifiche non solo e soprattutto anche riguardanti la ricerca e la lotta contro i tumori a livello italiano. Io vado avanti, io mi presento, sono Giacomo Moro Mauretto, parlo di biologia, evoluzione, ambiente anche su internet e appunto il mio lavoro è a tutti gli effetti fare il divulgatore scientifico. Quindi io ormai da cinque anni, anzi posso tranquillamente dire cinque anni perché ho iniziato esattamente cinque anni fa, in realtà fra due giorni c'è diciamo l'anniversario di quando ho iniziato a fare questo lavoro, creo contenuti soprattutto online ma anche dal vivo in cui parlo soprattutto di evoluzione, però appunto anche di questi altri argomenti. E un argomento che è molto interessante è da una parte ovviamente affascinante per l'argomento in sé come vedremo oggi, ma poi ovviamente perché ci tocca e tocca una fetta molto grande delle persone è indubbiamente l'argomento di oggi, l'argomento che riguarda qualcosa di un po' più particolare forse anche del solito, perché di solito si parla di tumori, si parla di cancro, però spesso riguardanti la nostra specie. Quindi noi siamo una specie di animali, non lo sapete, immagino Homo sapiens e nella nostra specie è molto diffuso, è particolarmente diffuso il fatto che le persone possano ammalarsi di tumore e possono eventualmente anche morire a causa dei tumori, a causa poi soprattutto di varie forme di cancro. Questo è dovuto a vari fattori che dopo vediamo al volo, ma è anche molto legato al fatto che come vedremo i tumori sono qualcosa di molto diffusi nel regno animale e non solo e anche al fatto che la nostra specie è peculiare dalmeno un punto di vista e cioè che tende a vivere veramente molto a lungo, tende ovviamente quindi a invecchiare particolarmente rispetto agli altri animali, anche quelli più imparentati a noi e soprattutto in tarda età è molto probabile sviluppare almeno un tumore. Le stime dicono che siamo nell'ordine di grandezza di una persona su quattro, come ordine di grandezza quando si parla ovviamente di età adulte, particolarmente adulte. E quindi la domanda riguarda in un certo senso anche gli altri animali e riguarda il fatto che guardando e cercando e capendo come funziona proprio l'insorgenza di tumori negli altri animali possiamo cercare di capire anche qualcosa sui nostri tumori eventualmente. E quindi appunto vi volevo portare in questo percorso in cui vediamo proprio questo. Ci sono per esempio animali che hanno tassi particolarmente bassi di tumori, ci sono animali che invece viceversa magari si ammalano veramente molto di tumori e così via. E in questo percorso vedremo degli animali veramente molto particolari e faremo anche delle riflessioni molto particolari sui tumori e sul cancro. Vedo che ci sono già delle persone che scrivono in chat, quindi grazie ai ragazzi del Manzoni di Bologna che hanno scritto, quindi ottimo, e iniziamo. Iniziamo e partiamo da una domanda che non è banale ed è ma cos'è? Cioè cos'è un tumore? Voi lo sapreste dire eventualmente? In realtà la cosa un po' particolare è che con il termine tumore o con il termine cancro si tende a definire una grandissima quantità di patologie molto diverse anche in un certo senso, che però almeno hanno una cosa in comune. Almeno hanno una cosa in comune, cioè che possiamo tranquillamente dire che sono una proliferazione incontrollata di cellule. Pensateci un attimo, ragionateci bene, questa è una definizione molto semplice che dà abbastanza bene il concetto. Purtroppo quando si sviluppa un tumore all'interno di una persona succede che una cellula o un gruppetto di cellule molto piccole, di solito tra loro imparentate, tende a avere avuto delle modifiche e da queste modifiche parte una proliferazione, iniziano a moltiplicarsi, di solito più velocemente delle cellule intorno, in modo incontrollato. E guardate che questo termine incontrollata, proliferazione incontrollata, il termine incontrollata è fondamentale perché qui sta tutta la differenza del mondo tra il cancro e tutte le altre cellule. Poi c'è una leggea distinzione teoricamente a livello verbale tra tumori e cancro, adesso ve la dico, anche se poi tendenzialmente molte persone, quasi tutte le persone, tendono a usarli come sinonimi. Però prima di tutto, perché dico che incontrollata è la parola fondamentale? Perché alla fine, se ci pensate, noi siamo proliferazioni controllate di cellule. Pensate che cosa molto particolare. Noi a un certo punto nella nostra vita, all'inizio della nostra vita, eravamo sostanzialmente una cellula e poi da là abbiamo iniziato, questa cellula è iniziata a moltiplicarsi, quindi 2, 4, 8 e così via. E quella è una proliferazione. Che differenza c'è tra l'inizio, quando eravamo uno zigote, poi un embrione e un cancro. La differenza sostanziale è che le nostre cellule hanno seguito delle regole ben definite nel modo in cui sono cresciute, nel modo in cui si sono moltiplicate, ecco, e nel modo in cui poi si sono organizzate. Il problema principale con i tumori è quello, cioè che non seguono delle regole, fanno un po' quello che interessa alle cellule stesse. Sono delle vere e proprie cellule che perdono il controllo e iniziano a vivere, diciamo, a fare una loro vita egoistica in un certo senso, in cui tendono a moltiplicarsi e iniziano a seguire delle vere e proprie regole evolutive, per cui ecco che iniziano ad adattarsi a un certo ambiente e vince anche chi riesce a moltiplicarsi più velocemente, questo è il motivo per cui poi da una piccola cellula, da poche piccole cellule, ecco che si possono formare delle masse. Ora, un tumore può andare in metastasi, eventualmente, e a quel punto di solito viene definito cancro, quindi questa sostanzialmente è la distinzione principale. Un tumore è una cellula, è un gruppo di cellule che ha iniziato a moltiplicarsi in modo incontrollato in una zona abbastanza localizzata e può anche essere eventualmente benigno, nel senso che può non dare, può per esempio non dare problemi o per esempio può non andare in metastasi e quindi andare a diffondersi in altre parti del corpo. Ecco, purtroppo quello che succede è che varie forme di tumori possono poi andare in metastasi, la metastasi è questo processo per cui alcune cellule possono allontanarsi dalla massa principale e andare poi quindi, usiamo proprio un termine, si usa invadere altre parti, magari dello stesso organo, ma a volte anche di altri organi e questa cosa ovviamente è un bel problema perché significa iniziare ad avere una proliferazione incontrollata di cellule in varie parti del corpo, con tutti i problemi che questo può portare. Bene, ci sarebbero altri termini, tipo neoplasie per definire i tumori, anche lì usando il termine benigno per intendere quelli che rimangono localizzati e che non danno problemi, quelli maligni invece, quelli appunto che danno problemi e così via. Però appunto, però ora li userò quasi come sinonimi, tenetene conto, anche perché ci sono dei casi in cui la distinzione tra tumore e cancro non è poi neanche così facile. Faccio un esempio che questo è veramente un po' impressionante, ecco, spero che non vi dia chissà quali problemi. Allora, vi ho detto, le cellule all'interno di un tumore possono propagarsi, muoversi e andare anche in altre parti del corpo. Questa cosa succede particolarmente tra gli animali, succede molto meno tra le piante perché le piante non hanno grandi sistemi di motilità cellulare, però adesso dopo vediamo un attimo le piante. Ci sono dei casi un po' eccezionali nel mondo animale che riguardano la possibilità della trasmissione di alcune forme di tumori, perché la metastasi può avvenire all'interno del mio corpo in altri organi, ma in linea teorica può avvenire anche in altri individui. Infatti in natura esistono dei rari casi, che fortunatamente non riguardano l'essere umano, di cancro e trasmissibili. Quindi l'esempio più famoso è indubbiamente quello del diavolo della Tasmania, perché non c'era questa patologia in natura, non si era vista, non si era registrata fino al 1996. Poi è successo che è iniziato a diffondersi all'interno di questa popolazione un cancro facciale che si poteva trasmettere, in particolare attraverso la saliva, attraverso i morsi. I diavolo della Tasmania sono animali che tendono a mordersi l'un l'altro per molti motivi, perché litigano, ma anche banalmente durante il periodo riproduttivo maschi e femmine si mordono e questo ovviamente è un grosso problema. Il cancro facciale, non vi ho messo le immagini perché sono anche abbastanza brutte, il cancro facciale diavolo della Tasmania ha messo a rischio di estinuzione questa specie, perché immaginatevi è una malattia che il sistema immunitario fa fatica a combattere, perché sono proprio cellule della propria specie che si diffondono, non è come avere la diffusione di un virus o la diffusione di un batterio che il sistema immunitario può riconoscere con abbastanza facilità. Si tratta di cellule che appartengono alla nostra specie e questo è poi uno dei motivi per cui per esempio combattere il cancro ha tutta una serie di difficoltà. Quindi appunto i tumori trasmissibili sono un tema molto particolare, molto interessante, seppur raro, perché appunto nei mammiferi sono registrati pochissimi casi, uno riguarda i cani però, cioè i cani hanno una forma di cancro trasmissibile e poi un altro riguarda i criceti siriani e per quanto si sa tra i mammiferi ci sono pochissimi altri casi. È più diffuso nei bivalvi, quindi in particolare nelle cozze, non proprio nelle cozze, ma in alcuni tipi per esempio di vongole. Però tema molto particolare e tenetene conto di questa cosa qua perché poi vi dico anche qualche cosa in più su come funziona il cancro, come si diffonde e così via. Ora la cosa particolare che bisogna un attimo realizzare è che la formazione di tumori è qualcosa di profondamente intrinseco alla nostra vita e in generale a tutti gli organismi pluricellulari. Perché? Perché riguarda proprio questo tema, riguarda il fatto che noi siamo organismi fatti di più cellule. Lo sapete bene, no? Noi siamo fatti da tantissime cellule. Bene, la pluricellularità è un evento abbastanza tardo all'interno della storia della vita sulla Terra. Per la maggior parte della storia sulla vita sulla Terra le cellule hanno vissuto da sole, si trattava di batteri, si trattava di eucarioti, ma sempre riunicellulari. A un certo punto in vari rami dell'albero della vita le cellule hanno iniziato a cooperare, ovviamente anche in periodi diversi. Cosa vuol dire però cooperare? Perché in natura la cooperazione è una cosa molto particolare. Significa che ogni cellula deve mettersi a disposizione delle altre. Pensateci un secondo. Cooperare significa essere altruisti, cercare di fare del bene verso gli altri, a volte anche un po' a discapito di se stessi, anche se poi magari complessivamente il proprio gruppo funziona meglio degli altri. Pensate al giocare a calcio. Quando voi, se giocate a calcio, state facendo una partita di calcio, cooperate con i vostri compagni, perché il vostro obiettivo è vincere contro un'altra squadra. Però in realtà, purtroppo, in ambito naturale, sempre in realtà, non si può solo cooperare. Un po' di competizione c'è sempre. Pensate per esempio al fatto che se voi siete dei calciatori, professionisti, magari il vostro stipendio dipende anche in base a quanti gol fate, dipende anche in base a quante parate fate, dipende anche in base a quanti assist fate. Quindi voi, per esempio, avete degli incentivi forti a competere con i vostri compagni, per fare più assist, per fare più gol, per sembrare più bravi sostanzialmente. Se ci pensate, questo è un po' un paradosso, noi abbiamo l'idea che competizione e cooperazione siano due termini che vadano in, se no, sono contrari dal punto di vista della lingua. Però poi all'atto pratico, quando si coopera, si compete sempre un po'. E perché c'è questa cosa? E perché ne parlo per quanto riguarda la pluricellularità? Perché è quello che succede anche alle cellule. Le cellule sono individui, in un certo senso, hanno una loro minima individualità e c'è un po' questo fatto, cioè le cellule, quando hanno iniziato a cooperare, questa è un'immagine che riguarda un gruppo di organismi molto piccoli, si chiamano coano-flagellati, che sono probabilmente gli organismi tendenzialmente unicellulari più imparentati a noi. Perché l'ipotesi dell'origine degli animali sia che dei parenti dei coano-flagellati abbiano iniziato a cooperare a un certo punto insieme e a dar vita a organismi procellulari, in particolare simile spugne, per capirci. Ok, perfetto. Quando c'è stato questo processo di fusione di vari individui, c'è stata ovviamente questa cosa, che certo a tratti la cooperazione era premiata, a tratti la competizione invece viene premiata dal punto di vista dei singoli. Ecco, il cancro in un certo senso è ancora questo, è ancora il fatto che all'interno del nostro corpo noi investiamo un sacco di energie per far cooperare tutte le cellule, per tenerle diciamo in ordine, però ogni tanto c'è sempre qualche gruppetto di cellule che ha dei meccanismi per cui inizia a diffondersi in modo preferenziale, inizia a crescere rispetto alle altre, ed è un po' il prezzo della pluricellularità. Il cancro è qualcosa di quasi inevitabile dal punto di vista evoluzionistico, è praticamente qualcosa di inevitabile quando si parla di pluricellularità, è praticamente impossibile pensare di combattere completamente, rimuovere completamente la possibilità che ogni tanto qualche cellula possa smettere di impazzire e di riprodursi, perché fa parte un po' dei nostri, delle funzioni minime del nostro corpo. Dopodiché però, una cosa che vedremo fra poco, è cavolo, può esserci però una grande diversità nella frequenza con cui questa cosa succede. E andiamo avanti. Il cancro, per questo motivo che vi ho detto, essendo molto legato alla pluricellularità, è molto diffuso ed è appunto onnipresente in tutti gli animali pluricellulari e non solo gli animali ma anche nelle piante. Guardate, questo è un osso di un dinosauro che è stato ricostruito avere un cancro alle ossa. Questo perché ovviamente immaginatevi, noi dei dinosauri abbiamo sostanzialmente solo le ossa, quindi noi dei dinosauri possiamo vedere solo il cancro alle ossa. Il cancro alle ossa può portare a un aumento della massa anche proprio del tessuto osseo e quindi guardate, questa è la ricostruzione appunto famosissima di questo cancro trovato e che ci dice che anche i dinosauri avevano il cancro, ma è quasi una banalità, il cancro c'è in tutto il regno animale. Vi racconto una storia un po' particolare, spero di non inorridire nessuno, ma che vi fa capire anche cosa significa effettivamente. Vedete queste cellule? Se guardate bene, queste cellule qui in particolare sono diverse, per esempio da quelle più intorno, che sono più chiare non solo, ma sostanzialmente sono più grandi. Queste sono le cellule che sono state trovate a un certo punto nel 2013 in un uomo in Colombia, un uomo che aveva l'AIDS. L'AIDS è una patologia causata da un virus, l'HIV, che a un certo punto sopprime sostanzialmente il sistema immunitario. Col sistema immunitario che non riesce più a combattere quasi più niente, varie malattie e varie patologie possono colpire gli individui. Per esempio, dopo vedremo, anche il cancro viene in parte tenuto sotto controllo dal sistema immunitario. E quando questo uomo si è presentato in ospedale, gli hanno trovato queste masse fatte di queste cellule, molto particolari, perché erano talmente piccole che i ricercatori hanno detto, i medici hanno detto, ma queste non sono cellule umane, queste non sono cellule umane, facciamo un'analisi del DNA perché tu hai delle cellule che non sono umane. E effettivamente è emerso questo, che erano cellule di una Atenia, di un tipo particolare di verme solitario, per capirci, appartenente ai platelminti, che sono uno dei 30 praticamente gruppi degli alberi della vita, e ci si è accorti che apparteneva ai platelminti. Cosa è successo? È successo che con un sistema immunitario compromesso, probabilmente la Atenia aveva il cancro e il cancro è riuscito a diffondersi anche fuori dalla Atenia all'interno dell'uomo. Ora, lui è stato curato in modo particolare, una volta che è stata scoperta questa cosa qua, è stato anche abbastanza facile curarlo, perché quelle cellule lì rispondevano, per esempio, ai trattamenti contro la Atenia, mentre ovviamente le cellule umane no, però è stato un esempio molto lampante di un infatto, cioè è molto diffuso il cancro all'interno di vari gruppi di animali. Pensate che quello è stato, nel 2013, il primo caso riportato di cancro nei platelminti. Prima non si era mai osservato, quindi una delle cose un po' particolari è anche questa, che per i motivi che ho detto adesso, tutti gli animali probabilmente sviluppano il cancro, ovviamente non significa che li abbiamo ancora visti tutti i cancro dei vari animali. Ora, storia un po' particolare? Sì, molto, io la trovate veramente molto affascinante questa storia qui, ma ok, questa è un'altra storia. Vi dicevo, i tumori ci sono anche in altri gruppi di organismi, per esempio le piante. Non so se li avete mai visti voi, i tumori delle piante. Si vedono spesso, sono causati da batteri e sono queste masse che a volte possono diventare anche enormi. Guardate quanto grande è questo, fa veramente impressione, non solo. Pensate anche al fatto che resistenza hanno le piante. Un essere umano con un tumore così grande, anche se benigno, probabilmente non potrebbe sopravvivere, gli darebbe veramente troppi problemi. Le piante sono veramente organismi molto, molto, molto resistenti e che possono tranquillamente tollerare anche delle modificazioni morfologiche così grandi. Qua piccolo aneddoto, ieri ho passato un bel po' di tempo a cercare se ci fossero studi su il cancro nei funghi, perché anche i funghi sono un altro gruppo di organismi pluricellulari, non ho trovato niente, non significa che non ci siano, però vuol dire che vengono studiati veramente poco, il cancro nei funghi, però è una cosa molto specifica. Va bene, ora torniamo un attimo alla nostra specie. Voi mi direte, ok, ma cos'è che causa lo sviluppo dei tumori e quindi poi eventualmente di cancro nella nostra specie? La risposta è tantissime cose. È, come si dice in molti casi, multifattoriale, quindi ci sono alcuni tipi di cancro che possono essere causati in modo più chiaro e diretto da degli agenti specifici, l'esempio perfetto riguarda il cancro ai polmoni, i bronchi, alle trachee, che è in larga parte causato dal fumo, dopo proprio faccio vedere una slide che fa veramente impressione, oppure da altre sostanze, mentre in alcuni casi invece è più il caso, c'è più una componente casuale, in altri casi c'è una componente genetica e così via. È molto difficile spesso determinare il motivo preciso per cui si è sviluppato un tumore. In altri casi invece, appunto, è un po' più facile, anche se caso per caso non si può veramente sapere, se non in casi eccezionali. Va bene. Un'altra sostanza cancerogena ormai ben conosciuta è l'alcol, che anche questa causa una fetta rilevante dei tumori all'interno della popolazione. Non come il fumo, però anche l'alcol è un cancerogeno certo, di cui forse non si parla neanche abbastanza. Va bene. Guardate questo grafico, che per me è sempre emblematico, mostra come è cambiato la mortalità in Italia, per il cancro ai polmoni. Ok? Potete vedere, qua c'è il grafico diversificato tra uomini e donne, ok? E potete vedere che cosa è successo. È successo che dagli anni 90 in poi negli uomini sostanzialmente è continuato a calare, perché gli uomini sostanzialmente fumano sempre meno. Le donne invece, progressivamente, negli ultimi decenni, hanno iniziato a fumare un po' di più e guardate, guardate come si vede bene la differenza nella storia, quanto è molto causato da quello. Non solo ovviamente, la media complessiva è buona, no? Cioè, progressivamente, se noi sommiamo queste due grafici, verrebbe fuori una cosa comunque in discesa. Giusto? vi torna? Sarebbe comunque in discesa, infatti in media stanno comunque calando dagli anni 90 i morti causati sostanzialmente dal fumo, ok? E anche se appunto, vedete, c'è un fenomeno particolare tra uomini e donne, le donne per vari motivi anche sociali di vario tipo stanno progressivamente fumando sempre di più. Chissà se a un certo punto, in un certo anno, si raggiungerà un momento in cui i due grafici si toccano. Ma questa è un'altra storia. Va bene? Come dicevo, c'è una componente casuale che dipende anche da tipo di tumore e tipo di tumore e che può molto variare. C'è un sacco di analisi in cui si cerca di stimare qual è la probabilità per ogni tipo di cancro, per ogni causa e di solito in molti casi si dice che la componente casuale è abbastanza rilevante. Facendo una somma di tutti i vari tipi di tumori, più o meno siamo intorno al 50%. Quindi sostanzialmente per vari tipi di tumori in media le variazioni di prevenzione fanno molto, appunto poco più del 50% di solito, mentre però il caso fa comunque un altro 50%, motivo per cui a volte è anche difficile quando si ha un tumore provare a capire perché è successo, magari si è tra quelli che si è ricaduto tra meccanismi casuali. Detto questo però ovviamente una cosa che si può fare è fare prevenzione e soprattutto evitare di avere alcuni comportamenti che possono aumentare di molto le probabilità di sviluppare alcuni tipi di tumori. Va bene, ora partiamo un attimo da una cosa un po' più pratica, come inizia un tumore? Inizia di solito da delle modifiche genetiche, modifiche genetiche o, uso una parola che però è molto complessa, epigenetiche, è un'altra cosa, delle cellule, quindi sapete no? Ognuno di noi all'interno delle proprie cellule ha del DNA, questo DNA può essere modificato, di solito questa cosa appunto succede anche casualmente perché ogni volta che viene duplicato il DNA si può fare un errore, avviene un errore, cioè c'è proprio un certo tasso di errore all'interno delle nostre cellule e quindi inevitabilmente avvengono delle mutazioni. Queste mutazioni possono anche essere indotte, per esempio dai raggi solari, per esempio da alcune sostanze e questo aumenta le probabilità che a un certo punto una di queste mutazioni possa portare a una perdita della regolazione della duplicazione delle cellule e quindi poi a quella proliferazione incontrollata che abbiamo visto. Ora, questa cosa però non è che completamente, diciamo, non è che la cosa finisce lì, non è che allora ogni volta che io ho una mutazione e ogni volta che io ho una mutazione dannosa per forza io svilupperò un tumore. Fortunatamente all'interno del nostro corpo ci sono dei meccanismi, dei sistemi di controllo, ci sono dei sistemi che permettono di riparare anche eventuali danni. Per esempio ci sono delle proteine che hanno proprio il compito di andare a cercare nel DNA dove ci sono stati gli errori e contribuiscono per esempio a riparare il DNA e questo ovviamente è uno dei tanti meccanismi che il nostro corpo mette in campo per combattere comunque i tumori, non solo a questo punto ovviamente anche dopo che c'è stata una minima proliferazione di cellule, comunque non è detto che da lì in poi inevitabilmente si vada incontro a un tumore. Poche cellule tumorali possono per esempio essere ben riconosciute da alcune cellule del sistema immunitario che possono eventualmente combatterlo. Questo è un linfocita natural killer, si chiama, che ha un compito molto specifico all'interno del nostro corpo ed è quello di trovare cellule che hanno qualcosa che non va e ucciderle sostanzialmente. Spesso si tratta di cellule che hanno appunto, iniziano ad avere sulla loro superficie qualcosa che non torna, qualcosa di strano e a volte possono essere cellule cancerose che stanno iniziando a moltiplicarsi e possono essere uccise. Non solo, in realtà i linfociti natural killer tendono anche a uccidere le cellule infettate dai virus e ricordatevi questa cosa perché poi magari torna a un certo punto. Quindi è una lotta continua, quella tra alcune cellule che ogni tanto provano a moltiplicarsi all'interno dei corpi e il corpo stesso che prova a fare delle cose per combatterle. Ora qua arriva il concetto fondamentale di questo webinar. Non è che questa lotta dà sempre lo stesso risultato. In alcuni individui ovviamente può dare lo sviluppo di un tumore, in altri a un certo punto invece no e a volte appunto è molto dovuto anche al caso come andrà a finire la storia. Qual è però la questione? Che questa frequenza con cui c'è un bilanciamento tra queste forze porta a un fatto veramente curioso. All'interno di una popolazione, più o meno, soprattutto se guardiamo in vari gruppi di animali, più o meno vediamo che l'incidenza dei tumori tende a essere abbastanza costante. Quindi se io guardo all'interno di un topo, all'interno di una popolazione di topi, all'interno di una popolazione di ratte, all'interno di una popolazione di castori, all'interno di una popolazione di altri mammiferi, ecco che troverò numeri che più o meno stanno nello stesso ordine di grandezza. E questo, se ci pensate, è strano. Cavolo, gli animali sono diversi. Com'è possibile che non è che non ci siano differenze abissali tra gruppi diversi di animali? Altronde, cavolo, avranno sistemi immunitari diversi, avranno grandezze diverse, avranno vite diverse. Com'è possibile che più o meno si stia sempre intorno a questa incidenza che è nell'ordine del 2-3%? Com'è possibile? E qua ovviamente viene in aiuto la teoria dell'evoluzione che può spiegare questo fatto. Può spiegare questo fatto appunto nel fatto che si crea un vero e proprio equilibrio tra la probabilità che emergano nuovi tumori e gli sforzi che può fare il corpo nel combattere questo. Perché tutto è costoso all'interno del nostro corpo. Avere un sistema immunitario un po' più forte nei confronti dei tumori, avere un maggiore controllo delle mutazioni, operazioni, avere delle strategie appunto per uccidere in modo selettivo alcune cellule piuttosto che altre con più frequenza è sicuramente buono perché magari mi permette di ammalarmi meno di tumori in media, però magari è costoso. E quindi quella è la questione. La questione è che il cancro è qualcosa di sostanzialmente inevitabile. A un certo punto a livello delle cellule c'è sempre una certa probabilità che una cellula si trasformi e possa moltiplicarsi e quindi a un certo punto la selezione naturale premia certi adattamenti a combattere il cancro che però non vanno mai sotto una certa soglia. Non vanno mai sotto una certa soglia perché sotto una certa soglia diventa troppo costoso, non ne vale più la pena e quindi a livello evolutivo succede che si imposta un certo equilibrio. Questo equilibrio però è strano in alcuni casi. È particolarmente strano perché appunto non ce lo si aspetta veramente del tutto e poi ci sono delle constatazioni da fare su questo equilibrio perché, vi faccio un esempio, se c'è un animale che ci si aspetta che per motivi vari abbia un tasso di tumori molto alto ma ce l'ha in realtà basso, sorge la domanda, no? Sorge la domanda del ok ma allora lui come fa a tenere sotto controllo questo tasso di tumori? L'esempio perfetto di questa storia riguarda i grandi animali come gli elefanti e le balene. Ci si aspetta che, per un motivo che adesso vi dico, loro dovrebbero avere grandissime quantità di tumori eppure non ce li hanno e quindi ovviamente la domanda sorge spontanea. Come fanno loro a tenere sotto controllo i tumori? Allora, a fare questa domanda di ricerca veramente molto curiosa è stato Richard Pito nel 1977. Vabbè, io dico Pito, poi in italiano si potrebbe dire Peto, no? Come i Peti, però appunto è inglese, quindi teoricamente è giusto Pito, che nel 1977 a un certo punto stava studiando l'incidenza di tumori nei topi e l'incidenza di tumori negli esseri umani e si è accorto di una cosa abbastanza banale. All'aumentare della grandezza degli individui o dell'altezza, per esempio, l'incidenza di tumori tende ad aumentare. Per esempio, all'interno della nostra specie, ci sono delle stime per i vari tipi di tumori, ogni 10 cm di altezza c'è un leggero aumento dell'incidenza di tumori, c'è un aumento al 15% per varie forme di tumori. Perché? Il Richard Pito dice una cosa ovvia, pensateci un secondo, ma è ovvio il perché. Perché animali più grandi tendono ad avere più cellule. Quindi io, che sono alto 1,80 m e qualcosa, sono anche abbastanza grosso spesso, io ho indubbiamente molte più cellule di una persona alta 1,60 m. Poi non solo in modo proporzionale all'altezza, perché se uno tende un po' a crescere in altezza, tende anche ad essere un po' più largo in proporzione. Questa è una caratteristica degli oggetti tridimensionali. Ma va bene. Ora, se io ho più cellule, e ho la stessa probabilità che ogni cellula a un certo punto perda il controllo, beh, ma è ovvio che io ho un'incidenza un po' più alta di tumori. Mi devo aspettare di averla, scusate. E lo stesso vale in vari gruppi animali. I ricercatori poi hanno mostrato che questa regola di Pito valeva anche per i cani. Anche nei cani, cani di taglie più grandi, tendono ad avere incidenza maggiore di tumori e così via. Capite qual è il punto? Ok. Questa regola è abbastanza stata studiata e vale praticamente sempre dentro a individui della stessa specie. Quindi, se anche guardiamo negli scimpanze, ecco che all'aumentare dell'altezza... Capite qual è il punto? Bene, Pito lo dice, dice, ok, ma qui c'è un problema, perché animali piccoli allora dovremmo aspettarci che abbiano un'incidenza bassa di tumore. Animali grandi invece incidenza altissima. E quindi ecco che noi dovremmo aspettarci che i topi abbiano molti meno tumore di noi, o dei cani. E le balene e gli elefanti dovrebbero sostanzialmente morire tutti di tumore. Ecco, questa cosa non succede. Anzi, succede sostanzialmente che, come dicevo, in vari gruppi animali più o meno si rimane sempre sullo stesso livello. Quindi il topo che dovrebbe avere molti meno tumori di noi, c'ha comunque più tumori. Cioè, ha un'ordine di grandezza come il nostro. Gli elefanti, che dovrebbero essere, dovrebbero avere molti più tumori, ecco che anche loro ce l'hanno come il nostro. Perché? Cosa succede? E come vi dicevo, il motivo è di tipo evolutivo e significa che sostanzialmente ci sono dei meccanismi che evolutivamente, all'aumentare delle dimensioni o al diminuire delle dimensioni, fanno in modo che si combatta all'interno del corpo il cancro in modo differenziale. Questo apre delle prospettive gigantesche, no? Perché banalmente andare a vedere come controlla lo sviluppo dei tumori, come controlla lo sviluppo dei tumori di animali molto grandi, può essere utilissimo. Ed è stato fatto, per esempio, si è cercato negli elefanti e per anni, no? Si è cercato di capire come gli elefanti combattessero, diciamo, la regola di Pito, come si opponessero al paradosso di Pito. Ora, in letteratura scientifica ci sono varie risposte, come sempre in biologia non sono tra loro mutualmente esclusive, quindi possono essere vere tutte e tre, tutte contemporaneamente. Le principali sono molto interessanti. Una cosa che c'è da tenere in conto, che io non penso, cioè questa è una cosa che si dice anche abbastanza poco, no? Noi diamo un po' per scontato che noi animali abbiamo tutte le cellule della stessa grandezza. E in parte è vero, no? Più o meno siamo lì, più o meno siamo lì. Però non è completamente vero l'aumentare delle dimensioni animali, c'è anche un leggerissimo aumento della grandezza delle cellule. Quindi non è vero completamente che all'aumentare delle dimensioni di un individuo o di un'altra specie, tipo di un elefante, io mi trovi necessariamente molte più cellule. Ne trovo comunque tante di più di quanto sono un essere umano, ma non in modo proporzionale al volume. Quindi questo è un primo fatto. Il secondo fatto è che di solito animali grandi tendono ad avere un metabolismo molto più lento, un metabolismo basale delle cellule molto 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 più lento. Questo per esempio vale appunto per gli elefanti. Questa cosa in parte aiuta a non sviluppare i tumori, perché una delle cose che sappiamo è che a livello cellulare la continuazione, il continuo lavorio che avviene all'interno delle cellule, di solito genera delle sostanze dannose e quello contribuisce in parte ad aumentare il danno cellulare e quindi poi eventualmente lo sviluppo dei tumori. Questo è uno dei motivi che probabilmente aiuta gli elefanti, ma poi c'è un terzo motivo, quello che è considerato anche il più interessante, il più grosso, ed è che loro hanno dei geni che noi hanno la funzione di proteggerci dai tumori, in particolare alcuni geni, per esempio comodissima è P53, che da noi, ma anche da loro, hanno un obiettivo molto semplice. Mandare in, diciamo, morte controllata le cellule quando qualcosa non va. Noi dentro noi abbiamo questi meccanismi molecolari per cui a volte se una cellula inizia a avere dei problemi, a avere cose che non vanno, quindi c'è anche il rischio che possa diventare un tumore a un certo punto, cioè da lì possa partire un tumore, ecco che ci sono dei meccanismi per cui queste cellule si autodistruggono sostanzialmente. Ecco, questo è dovuto a dei geni che, per esempio, se ho scoperto, gli elefanti hanno in sovrannumero. Per esempio di P53 loro hanno 20 coppie, che è una quantità enorme, noi abbiamo una coppia sola, questa cosa è pazzesca, no? Bene, questo è uno dei meccanismi principali. Bene, da qui poi si apre il mondo della ricerca. Ah, ma quindi gli altri animali, quante coppie di P53 hanno? Cosa succede se io metto a dei topi delle coppie in sovrannumero di P53? E così via, capite qual è il tema. Va bene, però studiare questo, studiare animali molto grandi, il loro sistema immunitario, ci permette anche di capire come eventualmente si potrebbe anche combattere meglio alcune forme di tumore. Va bene, un discorso simile vale per le balene, anche se nelle balene è meno chiaro, nel senso che ci sono degli studi di vario tipo che hanno provato a capire la stessa cosa, no? E per esempio vengono fuori, ecco questa è una cosa interessante, risposte diverse. Loro non hanno coppie in sovrannumero di P53, però hanno altri geni, si chiamano oncosoppressori, quindi che sopprimono i tumori, no? Onco, in sovrannumero, hanno una diversa regolazione del sistema immunitario, tutte cose che contribuiscono a combattere all'interno del proprio corpo meglio, no? Allo sviluppo di certe cellule. Ora capite però qual è il punto? È come se all'interno degli organismi ci fosse un freno acceleratore nel combattere il cancro. E semplicemente a livello evolutivo a volte ha vinto il freno, a volte ha vinto l'acceleratore. Però capite anche come apre proprio delle prospettive in generale, anche su come si affronta lo studio dei tumori. Va bene, vi ho mentito e voi direte ma no, ma come ci hai mentito? Sì, sì, vi ho mentito, nel senso che io vi ho detto che, ve lo vedete anche questo grafico qui, c'è più o meno un'aspettativa media del fatto che più o meno l'incidenza dei tumori sia abbastanza costante nei vari gruppi di animali. Ecco, questa cosa non è veramente, non è vera al 100%, perché poi ci sono per esempio degli animali o dei gruppi di animali che hanno, che si discostano dalla media, che di solito hanno delle incidenze di tumori molto più basse. Così. Tu li guardi e dici, ah, andiamo a vedere quanti di questi individui muoiono per esempio di tumore. Oppure, andiamo a vedere quanti individui sviluppano il tumore in un certo momento e, certo, nella maggior parte dei casi siamo sempre lì, no, intorno a questo 2-3% di incidenza, nel caso però di alcuni gruppi si scende. E quindi ecco che quando si vanno a vedere certi gruppi di animali, lì è interessante capire perché. Faccio questo esempio che è veramente molto interessante. Un gruppo di animali che rispetto agli animali imparentati tende ad avere un'incidenza più bassa sono gli uccelli. Gli uccelli che ci sono, ho preso guardate, degli abstract e dei risultati di alcuni studi, tendono ad avere delle frequenze, delle incidenze più basse. Qua io vi chiedo scusa se vi ho riportato le cose in inglese, ma la scienza si fa in inglese. Questa è una cosa che dovete sapere ed è fondamentale anche capirla, perché uno dei motivi per cui ha senso veramente imparare bene l'inglese è che poi vi permette di capire, leggere anche come si fa la scienza e anche eventualmente farla, che non si può essere ricercatori sostanzialmente senza sapere l'inglese. Va bene, vedete qua, qua ci sono delle percentuali, in questo studio sarà visto che per esempio l'incidenza degli uccelli era intorno a 1,89%, molto più bassa di quella dei mammiferi, molto più bassa anche quella dei rettili, dei vari gruppi di rettili. Questo studio dà un risultato ancora diverso, forse anche più eclatante, e mostrava che appunto l'incidenza negli uccelli era intorno allo 0,47% rispetto a altri gruppi di vertebrati, come noi che appunto siamo più in ordine del 2-3%. Wow, no? Sorprendente come cosa, sono numeri veramente molto, 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 molto interessanti. Cos'hanno di speciale gli uccelli? E qua non si sa molto bene, cioè a livello proprio del perché, del come funziona, ci sono delle ipotesi che sono soprattutto legate al sistema immunitario. Però c'è una domanda ancora più profonda, e cioè quali sono stati i meccanismi evolutivi che hanno fatto in modo che gli uccelli si discostassero da quel numerino, di quel 2-3% che molti altri animali invece hanno? Qualcosa ha premiato la lotta interna, il combattere interno dei tumori? E la risposta è probabilmente no. Probabilmente è successo qualcosa di strano agli uccelli, che poi come secondo effetto ha avuto il fatto che questi combattessero meglio, a livello del tipo del sistema immunitario, lo sviluppo di certe cellule tumorali. Un esempio, una delle due ipotesi in campo riguarda la miniaturizzazione. Infatti gli uccelli erano molto più grandi qualche centinaia o decina di milioni di anni fa. Sapete tutti che gli uccelli sono tecnicamente dei dinosauri, sono gli ultimi dinosauri sopravvissuti, e i loro antenati erano un certo tipo di dinosauri, per esempio abbastanza imparentati anche ai velociraptor, ai t-rex, ai terapodi, e terapodi, forse ho sbagliato, ho detto male, terapodi, e si sono rimpiccioliti. E a livello evolutivo, a un certo punto, si è salvato solo un gruppo particolarmente piccolo, che non solo si è rimpicciolito ancora di più. Cioè, guardate, alcuni degli animali più imparentati agli antenati degli uccelli pesavano tranquillamente 30-40 chili, anche 100 all'inizio. Eppure adesso no. Adesso noi spesso vediamo degli uccellini. e probabilmente 65 milioni di anni fa, quando c'è stato l'arrivo dell'asteroide, che ha estinto sostanzialmente tutti gli altri dinosauri, in realtà quelli che si sono salvati, gli uccelli che si sono salvati, erano probabilmente abbastanza piccoli, molto più degli antenati di questi uccelli, che potevano pesare anche come un essere umano sostanzialmente. Ecco, questo è il regolo, l'uccello più piccolo che si può trovare in Italia, e che difficilmente arriva intorno ai 5 grammi, 5 grammi. E voi ovviamente immaginate che roba, anche a livello del corpo, stiamo parlando di animali miniaturizzati. Sostanzialmente gli uccelli sono dei dinosauri miniaturizzati e la questione è quella, è probabile che a livello evolutivo gli uccelli abbiano degli armamentari del sistema immunitario che derivano dai dinosauri. Loro hanno gli strumenti per combattere il cancro di animali molto grandi, però con un'incidenza dei tumori di animali molto piccoli. E questa potrebbe essere una spiegazione. Un'altra ipotesi, in realtà, è legata al volo. perché anche i pipistrelli rispetto ad altri gruppi di mammiferi tendono ad avere incidenze un po' più basse dei tumori. Magari anche nel caso dei pipistrelli la questione è una questione di miniaturizzazione, però l'altra ipotesi è che il volo di per sé possa premiare certi tipi di modifiche che possano in qualche modo andare a combattere meglio le cellule tumorali. Questo perché ci sono varie ipotesi, una di queste riguarda i virus. Ricordate prima, gli animali che volano tendono a infettarsi molto di più di virus, per ovvi motivi. Ci sono colonie diverse che possono muoversi tanto, quindi è facile contagiarsi in tante aree, portare e diffondere virus un po' ovunque. Infatti, sia gli uccelli che i pipistrelli tendono a amarsi molto di virus. Ci sono molti virus che girano all'interno dei loro corpi. E la questione è questa, cioè probabilmente alcuni dei meccanismi che hanno portato al combattere meglio i virus hanno portato anche a combattere meglio i tumori, però come effetto secondario. Ok? Quindi, appunto, sviluppare più cellule natural killer ha l'effetto che uccide meglio i virus e quindi poi secondariamente anche meglio le cellule cancerose che iniziano a diffondersi. Va bene? Questa è una chicca, è uscito l'anno scorso. Ok? Ci sono un paio di domande dal pubblico? Ok. Adesso vi rispondo, fra poco. Adesso le guardo. Se... Ok, scusate un secondo. Poi continuo, eh, un secondo. Stavo cercando di leggerle. Faccio fatica a leggerle. Va bene, adesso ci riprovo, scusate. Eccolo, eccolo. No, io non vedo domande. Va bene, va bene. Chiedo scusa. Chiedo... Chiedo scusa. Ah, ok. Ah, eccole, eccole. Ottima. Come si correva gli studi fatti sui casi di tumore negli animali agli studi per combattere il tumore nell'uomo? Eh, dopo lo vediamo, dai. Lo vediamo dopo. Ok? Questo è un passaggio che vediamo dopo. Quindi, appunto... Vi chiedo un attimo, scusa, dopo lo vediamo. Allora, c'è un altro gruppo di animali che è stato scoperto sostanzialmente l'anno scorso avere un'incidenza veramente molto bassa di tumori. E sono le tartarughe. Per qua, qualcuno di voi potrebbe rimanere colpito. Sì, sì. Le ricercatorie si sono messi, hanno cercato di stimare quale fosse l'incidenza dei tumori nelle tartarughe e si sono accorti che è un'incidenza bassissima. Guardate questo grafico. Qua potete vedere, no? Ci sono i vari gruppi di vertebrati. Notate che cosa molto particolare, no? Gli uccelli, vedete, sono i blu. Ok? Gli uccelli tendono ad avere un sviluppo di tumori abbastanza basso mentre in realtà non così basso poi di cancro però comunque più basso per esempio di quello dei mammiferi e più basso anche di quello di altri gruppi di vertebrati. Ok? però se andiamo bene a vedere in particolare le tartarughe ok? O comunque le testugini insieme anche un po' i coccodrilli tendono ad avere livelli enormemente più bassi. E qua non si sa esattamente perché perché appunto è stato scoperto più o meno l'anno scorso però è uscito questa cosa in cocomitanza con altri con altri studi che hanno mostrato per esempio il fatto che l'invecchiamento delle tartarughe è una cosa veramente molto strana sia perché è lentissimo le tartarughe invecchiano lentissimamente sia perché sembra che le tartarughe abbiano dei meccanismi cellulari per cui sostanzialmente possono anche modulare l'invecchiamento cellulare quindi in base a certi stimoli stress esterni possono modulare il proprio invecchiamento cellulare e questo ovviamente apre molto la prospettiva sul tema del rallentare l'invecchiamento che in un certo senso è molto collegato anche allo sviluppo dei tumori questo perché per certi versi molti dei meccanismi che causano i tumori possono anche contribuire poi all'invecchiamento e viceversa vi parlo dell'ultimo animale legato a un'incidenza bassissima di tumori che è questo questo è un animale fantastico è un animale che non ha senso è un animale su cui i ricercatori si interrono da decenni e fanno ricerca da decenni perché è un animale veramente impressionante guardate questa è una cosa pazzesca io ho un libro che è una raccolta di studi scientifici che si chiama la biologia straordinaria del ratto talpa nudo ok si chiama eterocefalo glabro e questo animale viene studiato perché ha tantissime caratteristiche una di queste caratteristiche è che va bene vive in colonie in colonie in cui per esempio non si riproducono tutti c'è la regina un po' come nelle api ok è brutto ovviamente è un ratto talpa che non ha la pelliccia sviluppata ha soltanto dei peletti vive in questi cunicoli in cui vive in colonie anche formate da 300 individui e una delle caratteristiche veramente peculiari di questo animale è che ha una resistenza pazzesca al cancro pensate che fino al 2013 non si erano trovati individui che hanno sviluppato i tumori tanto che guardate questo è un articolo pubblicato su Science del 2013 appunto che diceva proprio guardate questo animale non si ammala di tumori non sviluppa il cancro poi in realtà si è capito che questa cosa non era completamente vera ma comunque anche se si ammala di varie forme di cancro lo fa coincidenza bassissima siamo praticamente ben sotto gli uccelli siamo praticamente a livello delle tartarughe però è un mammifero però è un mammifero e infatti si è cercato di capire che cosa avesse di speciale il problema di questo animale è che è speciale da ogni da ogni punto di vista è speciale da ogni punto di vista vi faccio un esempio facciamo così dai in classe vi faccio una domanda provate a rispondere vediamo chi c'ha zecca questo è un topolino ok è grande più o meno come un eterocefalo glabro ok lui vive di media al massimo 4 anni quindi se gli va bene la vita se non viene predato se se la cava e tutto vive 3-4 anni un topolino quanto pensate che possa vivere un eterocefalo glabro vediamo chi indovina in classe qualcuno dirà 5 anni 6 anni 7 10 12 13 15 20 25 io ho 28 anni ok un individuo di eterocefalo glabro può vivere più di me cioè spero io comunque di andarci di vivere più di quanto può vivere un eterocefalo glabro però per un animale così piccolo di me cioè molti individui possono tranquillamente superare i 30 anni e appunto ci sono dei casi in cui alcuni individui sono sopravvissuti per 37 anni per esempio molto di più di quanto vivono i cani ecco vedi 2 6 25 8 14 no no 37 anni 37 anni che è una quantità veramente pazzesca va bene va bene non ha assolutamente senso e appunto questo animale ha dei meccanismi cellulari unici e diversissimi per cui viene studiato in quanto appunto si prova a capire quale sia il segreto di questo animale che meccanismi cellulari abbia che caratteristiche morfologiche gli permettono di avere tutto questo e si cerca di capire per esempio si è scoperto che lui ha un meccanismo molto particolare per cui ha una cosa che si chiama inibizione da contatto molto forte per cui quando una cellula cancerosa si sviluppa e inizia per esempio a a a diffondersi non riesce a creare un ambiente in cui sopravvivere perché le cellule a fianco la inibiscono c'è questo meccanismo cellulare molto famoso si chiama inibismo da contatto se hai una cellula cellulare può toccare alcune cellule altre cellule possono inibirne la crescita questa cosa è fortissima elettroencefaloglapro va bene quindi immaginatevi viene studiato da tutti i punti di vista poi tenete conto che questo animale è veramente stravagante perché per esempio la sua temperatura cambia in base alla temperatura ambientale la nostra temperatura rimane costante la sua no ed è una cosa rarissima nei mammiferi succede quasi soltanto nei bradi più al massimo la sua temperatura del corpo può variare tra i 12 e i 37 gradi che è tantissimo una varianza enorme e così via capite qual è la questione è un animale veramente strambo ma appunto alcuni di questi meccanismi cellulari sono stati studiati perché sono veramente curiosi uno dei più curiosi riguarda per esempio il fatto che lui ha un acido ialuronico particolarmente grande ora l'acido ialuronico è una una molecola che si trova all'interno del del derma lo vendono anche no spalmati l'acido ialuronico per diventare più bello più bella in realtà fortunatamente quello che ti spalmi nei prodotti cosmetici non è che ti entra dentro al corpo rimane in superficie ok noi lo produciamo noi produciamo questo acido ialuronico che però è diverso da quello dell'otelcefroglabro il suo è molto più grande del nostro in media tendenzialmente 5 volte più grande del nostro cosa 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 significa non lo sappiamo bene sappiamo che questo acido ialuronico crea un ambiente tra le cellule tale per cui i tumori fanno fatica a svilupparsi se anche si sviluppano fanno fatica a attaccarsi alle altre cellule se anche si attaccano l'ambiente circostante non è particolarmente consono per i tumori non solo si è anche pensato che l'acido ialuronico speciale dell'otelcefroglabro contribuisse anche alla longevità allora quest'anno è stato pubblicato uno studio abbastanza pazzesco in cui dei ricercatori hanno fatto una cosa hanno preso i geni per questo di questo acido ialuronico particolarmente grande dell'ocefroglabro e hanno modificato geneticamente dei topi per vedere cosa succedeva dei topi che esprimevano questo questa molecola all'interno del proprio corpo ha senso da un punto di vista totalmente teorico capiamo se quello conta come facciamo a scoprirlo vediamo se lo possiamo per esempio traslare a un altro animale va bene questo esperimento è stato fatto in particolare appunto sui topi e il risultato è stato sorprendente veramente sorprendente perché è successo è successo che la vita media dei topi si è allungata non di tanto i topi che erano stati geneticamente modificati si è scoperto che la loro incidenza di tumori è calata calata di un 18% di vari tipi di tumori ma soprattutto è successo che si sono accorti che invecchiavano più lentamente a livello cellulare e a livello anche delle capacità motorie questi topi stavano meglio si è scoperto per esempio che nei topi anziani soprattutto quelli che avevano più di 27 mesi quindi stiamo parlando di due anni e mezzo poco meno capito sono topi anziani l'elettrocefalo grab ne vive 37 nei topi anziani l'incidenza di tumori era ancora più bassa grazie a questa modifica genetica nonostante nonostante questo è un passaggio fondamentale questa trasformazione diciamo dei topi in topi che esprimevano l'acido ialluronico non si è stata completa completa perché i ricercatori si sono accorti che va bene produrre l'acido ialluronico però i topi per esempio avevano delle molecole che lo distruggevano questo acido ialluronico molto più velocemente di quanto faceva l'eterocefalo glabro quindi non c'era un vero e proprio accumulo sostanzialmente ok quindi o comunque un accumulo paragonabile a quello del nostro del nostro ratto talpa nudo e quindi la questione è quella anche i ricercatori adesso stanno valutando di fare anche un'altra modifica genetica per permettere un maggiore accumulo di questa sostanza all'interno dei topi per vedere se questo allunga ancora di più la vita dei topi abbassa ancora di più l'incidenza di certi tipi di tumore e soprattutto se continua ad abbassare la questa incidenza negli anziani e a migliorarne la qualità della vita però di per sé questo studio ha mostrato qualcosa di impressionante e cioè che una caratteristica che abbiamo trovato in un animale si può trasferire a un altro animale ora prima di pensare che questa cosa si possa fare sugli esseri umani ce ne vuole modifiche genetiche negli esseri umani non si fanno se non in casi molto molto specifici in casi di terapia genica per delle malattie specifiche non so se lo sapete in realtà è successo nel 2018 che un ricercatore cinese ha modificato geneticamente tre bambini ok quindi due bambini una bambina è stato arrestato è stato messo in galera perché questa cosa era gravissima anche il modo in cui l'aveva fatto quindi è una cosa che ancora non si fa però al di là di tutto questo apre delle prospettive interessanti per esempio ora che sappiamo che si può trasferire i topi magari a un certo punto si potrebbe trasferire ad altri animali pensate ai cani per esempio a me viene in mente immaginate avere dei cani allungare la vita dei cani e abbassare le incidenze dei tumori sarebbe veramente interessantissimo da vari punti di vista anche probabilmente per vivere più a lungo una vita con un proprio cane ma vabbè oppure i gatti ma vabbè la smetto di fare queste speculazioni qui no ma apre delle prospettive interessanti poi su ok va bene magari non serve proprio la modifica genetica ma non è che questa riusciamo a capire come questo acido ialluronico permette di allungare la vita delle cellule magari poi impariamo anche qualcosa di più profondo anche su come combattere meglio i nostri i tumori e qua sta anche un po' a parte la storia andare a guardare questi animali che hanno queste modifiche che li permette di avere un abbassamento vistoso dell'incidenza dei tumori ci permette di capire meglio delle cose anche poi su di noi poi da qui all'applicazione pratica possono volerci decenni però magari ci permetterà anche soltanto di capire meglio degli aspetti che poi a un certo punto si possono si può fare attenzione faccio un esempio banale scoprire che nell'eterocefalo glabro l'ambiente extracellulare determinato dall'acido ialluronico è così determinante no? Magari può dare l'approccio a un ricercatore che si occupa di cancro negli esseri umani nel dire wow presto molta più attenzione all'ambiente extracellulare della nostra specie e quindi studio meglio diamo più attenzione a che tipi di sostanze ci sono fuori dalle cellule che tipi di impalcature ci sono tra le cellule e così via e questo è un po' la cosa interessante o al di là poi cerchiamo di capire l'evoluzione dei tumori che sono un tema molto interessante e questo ovviamente può portare a un certo punto a dei miglioramenti anche in ambito di ricerca anche ovviamente in ambito poi di cure cosa che ovviamente sta avvenendo soprattutto per lo studio comunque sui topi e sugli esseri umani già di base una cosa che dovremmo dirci sempre più spesso è che già la lotta diciamo chiamiamo così lotta contro il cancro ci sta ci sta permettendo di avere dei grossi risultati questo è un è un grafico un po' difficile da leggere che mostra una cosa molto particolare nonostante le morti per cancro stiano aumentando questo è un dato di fatto questo fenomeno è in larghissima parte dovuto almeno in Italia all'aumento di età come dicevo l'incidenza dei tumori è molto legata all'aumento di età ok e quando si guarda a parità di età quindi si guarda per esempio quali hanno le probabilità di morire di cancro alla stessa età di quella che ho adesso quindi un trentenne di oggi rispetto a un trentenne del 1930 ok c'è stato un sostanziale calo e questo è dovuto grazie anche proprio alla ricerca grazie anche alla cura alle varie cure che ci sono per varie forme di tumori ormai si può vivere una vita sostanzialmente normale si può tranquillamente anche non morire io ho avuto per esempio mia zia che ha avuto un tumore al seno tumore al seno che trent'anni fa sarebbe stato probabilmente fatale quarant'anni fa cinquant'anni fa sicuramente fatale la mia zia invece sta bene e questa cosa è una cosa che riguarda ormai tantissime persone e questo è anche un tema a me fa sempre l'impressione vedere per esempio nelle serie degli anni 90 nelle serie degli anni 2000 come veniva trattato il cancro sta cambiando molto anche la percezione perché per molte patologie poi cambia molto da tipo di cancro a cancro la ricerca sta facendo passi poi appunto stiamo parlando comunque di una riduzione del 25% poi a un certo punto vedremo riduzioni più grandi quindi si spera e questo è grandioso ed è dovuto anche in larga parte la ricerca sul cancro sia midata ma anche quella più generale che cerca di capire alla base dove andare a ragionare dove andare a intervenire va bene con questo io ho concluso allora vi lascio lo spazio alle domande quindi ne recupero un paio che ho visto prima se ne avete altre fatemele pure quindi vedete che mi hanno un po' risposto è vero che stanno aumentando le persone che si ammalano di tumore sì sì sappiamo perché sta avvenendo ecco perfetto sì sì in tutto il mondo soprattutto in Italia le persone che si ammalano di tumore stanno aumentando e come vi dicevo il meccanismo principale è l'aumento dell'età purtroppo per motivi anche che vi ho detto prima evolutivi il cancro tende a colpire soprattutto gli individui anziani gli individui che sono che non sono più riproduttivi sostanzialmente e questo è un dato di fatto in quasi tutte le specie tende a aumentare in modo più o meno esponenziale la probabilità di sviluppare un tumore con l'età e quindi la nostra età e la nostra popolazione sta invecchiando sempre di più ormai siamo l'età mediana in Italia è 48 anni quindi metà della popolazione ha più di 48 anni e questo sta portando a un aumento complessivo enorme dell'incidenza dei tumori l'aspetto l'aspetto particolare è appunto che invece l'incidenza a parità di età è sostanzialmente stabile poi ovviamente va visto tumore per tumore alcuni sono in aumento altri sono in calo bisogna vedere ovviamente tumore per tumore però appunto alcuni sono in calo ecco una cosa bella che non ci diciamo abbastanza è che alcuni dei fattori di rischio più grossi sono in calo in Italia si fuma sempre meno poi appunto è tristo questo vale in modo leggermente diversificato tra maschi e femmine però sommando maschi e femmine si fuma sempre meno si beve meno in Italia l'inquinamento dell'aria che è un altro fenomeno rilevante è in calo poi è in calo fino a un certo punto qualcuno dice ma è vero che i casi di tumore e decessi sono aumentati in seguito alla somministrazione dei vaccini covid tumori e decessi sono due robe diverse per quanto ne sappiamo non è una cosa che è successa in modo statisticamente significativo non si vedono aumenti fuori scala di decessi e tumori a causa o legati dopo la somministrazione del covid del vaccino anti covid viceversa abbiamo visto un grosso aumento di morti quando c'è stato il covid è abbastanza evidente quindi complessivamente ormai è abbastanza assodato si dice che complessivamente i vaccini per il covid hanno salvato milioni di vite e questo è praticamente un dato di fatto ma va bene questa è un'altra storia va bene se ci sono altre domande se no concludo concludo in particolare dicendovi che è ancora è ancora aperta la possibilità di iscriversi al progetto cancro io ti boccio quindi una possibilità aperta fino al ottobre 2000 alla fine di ottobre quindi al 31 ottobre permette di fare di fare varie cose tra cui appunto c'è una grande disponibilità di informazioni di kit informativi per quanto riguarda queste tematiche legate ai tumori per la prevenzione nei confronti dei tumori c'è la possibilità di avere all'interno della scuola la distribuzione di alcuni tipi di prodotti in particolare miele arance e marmellate ok che poi andranno questo porterà a finanziare la ricerca per il cancro da alcuni punti di vista in particolare per quanto riguarda appunto alcuni tipi di ricerca innovativa non solo ovviamente se partecipate a questo progetto la vostra scuola e le vostre classi possono avere anche dei premi nel senso che poi ci saranno delle estrazioni che permetteranno di avere dei pc o delle stampanti 3D va bene vi dico oltretutto che a parte questo sono all'interno dei progetti AIRC ci sono anche i contest i concorsi che sono ancora attivi e in caso vi invito ad andare a vedere all'interno del sito per maggiori informazioni quindi trovate appunto all'interno del sito queste pagine in particolare contest contest cheat b . AIRC . it e in generale all'interno del sito non solo vi invito se volete a a a guardare anche il sito AIRC . it vi invito ad andare a vedere il canale YouTube AIRC Education in cui verrà anche ricaricata questa diretta e a iscrivervi alla newsletter che trovate qui quindi che verrete e su cui verrete informati di vari aspetti riguardanti AIRC ok con questo io vi saluto è stato un piacere raccontarvi tutte queste cose e ricercarle ciao a tutti quanti